L'influenza e spesso la coincidenza con il covid fanno scarseggiare alcuni farmaci nelle farmacie e soprattutto ad uso pediatrico. Tanti italiani sono alle prese con l'influenza stagionale, tornata prepotentemente dopo due anni di stop della pandemia per l'uso della mascherina. L'aquila non fa eccezione, tanti casi di influenza e alcuni di covid. Molte mamme spiegano che non riescono a trovare ad esempio l'antinfiammatorio Nurofen indicato per i più piccoli. Mancano farmaci a base di paracetamolo, prevalentemente, ma nessun problema per i vaccini anti-covid e antivirali. Problemi anche per antibiotici, antinfiammatori, antipertensivi, antidepressivi e diuretici. Anche il numero uno di Assofarma, l'aquilano Venanzio Gizzi, ammette la difficoltà ma spiega pure che le farmacie stanno cercando di fronteggiare la crisi. Le cure a domicilio per il covid, l'influenza di quest'anno particolarmente aggressiva, la crisi internazionale, sono molteplici le motivazioni di questa mancanza dei farmaci nei presidi del territorio. In questi giorni una larga fascia della popolazione avverte la mancanza di farmaci a base di paracetamolo. Sappiamo bene che la molecola del paracetamolo è una delle più usate nel mondo. Sappiamo anche che questa carenza di farmaci è dovuta per due motivi fondamentali, essenziali. Il primo alle cause internazionali che stiamo vivendo, che stiamo drammaticamente vivendo, che fanno sì che la produzione, che l'industria riesce molto difficilmente a procurarsi i principi attivi per la realizzazione di questi farmaci, così come per il confezionamento da un lato. Da un altro lato sappiamo anche che la pandemia, il covid-19, ma soprattutto l'influenza di questo periodo, di questi giorni, ha fatto sì che ci fosse una grossa richiesta da parte della popolazione di farmaci proprio a base di paracetamolo. Questa grossa richiesta di fatto ha portato a una carenza di alcuni tipi di farmaci. Ma sappiamo bene, sappiamo anche che i nostri medici di base possono indicare, prescrivere, segnalare altri farmaci che hanno gli stessi principi attivi, per dare la risposta totale alla popolazione che ha bisogno di questo tipo di farmaci. Sono farmaci da banco che possono essere acquistati direttamente dai cittadini, ma sono farmaci che comunque per il buon uso devono essere adoperati, usati sempre sotto la guida del medico di base.